Il titolo del messaggio di oggi Il titolo del messaggio di oggi è il centro del cuore di Gesù E credo che questa sia la rivelazione più importante che ho avuto da quando sono cristiano Isaia 55 dal versetto 8 dice Infatti, bellissimo il versetto prima che dice Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui Al nostro Dio che non si stanca di perdonare Diciamolo alla persona di fianco a noi Il nostro Dio non si stanca di perdonare Il nostro Dio non si stanca di perdonare Bellissimo Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri Nelle vostre vie sono le mie vie, dice il Signore Come i cieli sono alti al di sopra della terra Così sono le mie vie più alte delle vostre vie E i miei pensieri più altri dei vostri pensieri Come la pioggia e la neve scendono dal cielo E non vi ritornano senza aver annaffiato la terra Senza averla fecondata e fatta germogliare Affinché dia seme al seminatore pane da mangiare Così è della mia parola uscita dalla mia bocca Essa non torna a me a vuoto Senza aver compiuto ciò che io voglio E condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata E mentre stavamo meditando nella casa di preghiera Questi versetti abbiamo cominciato a cantare Del cuore di Gesù Abbiamo cominciato a cantare dei pensieri di Dio Delle vie di Dio Della parola di Dio Nella nostra bocca Dice così è della mia parola uscita dalla mia bocca Ed esce dalla bocca di Dio Ma qui sulla terra Chi è la bocca di Dio? La Chiesa La Chiesa e i profetti in particolare Quindi sta parlando di una bocca di Dio In una bocca umana Ed è un grandissimo privilegio Che noi abbiamo di poter essere la bocca di Dio E c'è un tipo di profezia Una profezia Che non torna a vuoto Senza aver compiuto ciò che Dio vuole E condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata Vengono dei momenti nella nostra vita Se noi siamo uniti con Dio Che i nostri pensieri sono i suoi pensieri E le nostre vie sono le sue vie Dio qua parlava a un popolo che aveva bisogno di convertirsi Ma grazie a Dio noi siamo nella via della conversione Amen Noi abbiamo la mente di Cristo Quindi noi possiamo avere i pensieri di Dio Amen E quando noi abbiamo i pensieri di Dio Noi abbiamo il cuore di Dio Allora la nostra bocca può parlare Con le parole di Dio Amen E meditando tutto questo Ho avuto una visione E in questa visione c'era Una luce Diciamo avete presente il Windows Media Player Quando si sta fermi E comincia a uscire tutto quel Quei cerchi concentrici Uguale una cosa del genere Però fatta di luce E io sapevo che quello era Il cuore di Gesù E al centro del cuore di Gesù Nella parte più profonda del cuore di Gesù C'è questo Un desiderio Ed è il desiderio di fare la volontà del Padre Questo è il centro di Gesù Tutto quello che Gesù fa Lo fa partendo da qui Partendo da questo desiderio E questo desiderio È una persona Lo Spirito Santo Al centro di Gesù Nelle profondità di Gesù C'è lo Spirito Santo Amen E lo Spirito Santo Cosa c'è nel cuore Nel profondo del tuo cuore Oggi Che sei nato di nuovo C'è lo Spirito Santo Lo Spirito Santo È lo Spirito del Figlio Galati 4 Versetto 4 Prendiamolo insieme Partiremo da qui Dal fatto che lo Spirito Santo È lo Spirito del Figlio È lo Spirito del Figlio di Dio È lo Spirito di Gesù Cristo Lo Spirito Santo È lo Spirito di Cristo È lo Spirito del Figlio Galati 4 Versetto 4 Questa è una cosa che Magari Sembra scontata Ma non è così scontata Ci siete? Ma quando giunse La pienezza del tempo Dio mandò suo figlio Nato da donna Nato sotto la legge Per riscattare Quelli che erano sotto la legge Affinché noi ricevessimo L'adozione E perché siete figli Dio ha mandato Lo Spirito del Figlio suo Nei nostri cuori Che grida Abba Padre Così tu non sei più servo Ma figlio E se sei figlio Sei anche erede Per grazia di Dio E questo stesso concetto Paolo lo ripete Con le stesse parole In Romani Romani 8 Andiamolo a prendere Dal versetto 14 Infatti tutti quelli Che sono guidati Dallo Spirito di Dio Sono figli di Dio Romani 8 Dal versetto 14 E voi non avete ricevuto Lo Spirito di servitù Per ricadere nella paura Ma avete ricevuto Lo Spirito di adozione Mediante il quale Grediamo Abba Padre Lo Spirito stesso Attesta insieme Con il nostro Spirito Che siamo figli di Dio Se siamo figli Siamo anche eredi Eredi di Dio E coeredi di Cristo Se veramente Soffriamo con Lui Per essere anche Glorificati con Lui Ok? Quindi Lo Spirito Santo È stato sparso Nei nostri cuori Che cos'è lo Spirito Santo? È lo Spirito del Figlio Ed è lo Spirito di adozione È uno Spirito Che fa figli Che ti fa sentire figlio Lo Spirito che ti adotta Amen? Lo Spirito Santo Ovunque lo Spirito Santo Dimora Quello è un figlio di Dio Amen? In ogni cuore Dove lo Spirito Santo entra Quello diventa un figlio di Dio E Gesù aveva Lo Spirito Santo Senza misura Nel momento in cui riceviamo Lo Spirito Santo Riceviamo l'adozione Perché diventiamo Questo è importante Un solo Spirito con Cristo Amen? Quindi che cosa succede? Che lo Spirito Santo Viene in noi E così facendo Siamo innestati In Cristo Ok? Lo Spirito Santo È lo Spirito di Gesù Da Lui Fiumi di acqua viva Sgorgono dal suo seno Lo Spirito Santo Viene sparso nel mondo E viene nei nostri cuori Noi andiamo a partecipare Della natura di Cristo Andiamo a partecipare Del suo cuore Il suo cuore È il nostro cuore Il suo spirito È il nostro spirito Riceviamo la mente di Cristo La sua mente Diventa la nostra mente E quindi noi diventiamo Uno con Lui Perché diventiamo Uno con Lui? Perché siamo Un solo spirito Con Lui Prima Corinzi 16 a 7 Dice Chi si unisce Al Signore È uno spirito Solo Con Lui Amen? Ok? Quindi Lo Spirito Santo È lo Spirito del Figlio Cosa vuol dire? Che crea figli Secondo il modello Del Figlio Di Dio Ok? Quindi Quando noi abbiamo Lo Spirito Santo Noi riceviamo Tutte Il potere Tutte le caratteristiche Tutte i pensieri Per essere figli di Dio Come Gesù Amen? Come Gesù Come camminava Gesù Così possiamo Camminare Anche noi Lo Spirito Santo Che è lo Spirito del Figlio Ha un ardente Desiderio E un'unica Intenzione Che sia attuato Il disegno del Padre Che sia fatta La volontà del Padre Ok? Su questo unico cardine Si muove Tutto ciò Che avviene Nel mondo Spirituale E materiale E Gesù Che ha nel suo cuore Lo Spirito Santo Senza misura Ha Aveva E avrà sempre Questo unico Ardente desiderio Fare la volontà del Padre E piacergli In ogni cosa Cioè Ubbidire Quando lo Spirito Santo Viene in te Risveglia Un desiderio Ed è il desiderio Di ubbidire A Dio Dovunque Lo Spirito Santo Dimora Trasmette I suoi desideri A chi lo ospita Prendiamo insieme Galati 5 Dal versetto 16 Quando ho capito Queste cose Sono state per me Un grandissimo Incoraggiamento Io dico Camminate Secondo lo Spirito E non adempirete Affatto I desideri Della carne Perché la carne Ha desideri Contrari allo Spirito E lo Spirito Ha desideri Contrari alla carne Sono cose Opposte tra di loro In modo che Non potete fare Quello che vorreste Quelli che sono di Cristo Versetto 24 Hanno crocifisso La carne Con le sue passioni E i suoi desideri Se viviamo Dello Spirito Camminiamo anche Guidati dallo Spirito Romani 8 Versetto 5 Prendiamolo Romani 8 Versetto 5 Infatti Quelli che sono Secondo la carne Ne pensano Ne pensano Alle cose Della carne Invece Quelli che sono Secondo lo Spirito Pensano Alle cose Dello Spirito Ma ciò che brama La carne È morte Mentre ciò che brama Lo Spirito È vita e pace E voglio sottolineare Queste parole Ciò che brama Lo Spirito Lo Spirito Lo Spirito Brama Lo Spirito Ha un desiderio Intenso Ha una bramosia Amen È una persona Che ha un desiderio Ardente Una bramosia E la bramosia È la vita E la pace E cos'è la vita E la pace È che sia fatta La volontà di Dio Amen Il regno di Dio È giustizia Pace Gioia nello Spirito Il regno di Dio È la vita eterna Infatti Ciò che brama La carne È inimicizia Contro Dio Perché non è sottomesso Alla legge di Dio E neppure può esserlo E quelli che sono Nella carne Non possono piacere A Dio La chiave È proprio Nella parola Desiderio Quando lo Spirito Santo È venuto a dimorare In noi Ha sostituito Il desiderio Di essere Ribelli Verso Dio Ed egoisti Con il desiderio Di essere Ubbidienti a Dio Ed amorevoli Amen Allora Quando noi eravamo Lontani da Dio Avevamo il desiderio Di piacere a Dio Assolutamente no Avevamo il desiderio Di fare Quello che a noi Sembrava giusto Avevamo il desiderio Di realizzarci Ok Avevamo il desiderio Di avere una bella casa Di avere una bella famiglia Di magari Di fare soldi Dipende a seconda Di quali sono Le nostre priorità Ci sono quelli Che magari Non sono interessati A niente di tutto questo Sono interessati Ad avere La macchina Con l'impianto stereo Più forte del mondo Non so se avete mai visto Queste persone Che spendono 20.000 euro Per rifare L'impianto stereo Della macchina Quello è l'obiettivo Della loro vita Oppure ci sono persone Che vogliono divertirsi Avete incontrato mai Persone così Che ti dicono No io Non voglio seguire Dio Si ci credo Ma io mi voglio divertire Che poi per gli uomini Significa andare a donne Sostanzialmente No Così I desideri Qual è il desiderio Di una persona Che è nella carne Fare Fare la propria volontà Fare quello che mi piace Ok Quando lo spirito santo È venuto ad abitare Nella nostra vita Ha cambiato Questo desiderio E il desiderio È diventato Voglio piacere a Dio Voglio piacergli In ogni cosa Voglio fare La sua volontà E questo Non è normale Non dobbiamo pensare Che sia normale Questa è una cosa Soprannaturale Perché se era normale Succedeva anche Senza lo spirito santo Giusto? Allora Nessun uomo Che non è nato di nuovo Può desiderare Di fare la volontà di Dio Tanti possono desiderare Di essere buone persone Se incontrate Persone che non conoscono Gesù Mica sono tutti assassini No Mica sono tutti Donnaioli No Ci sono tante brave persone Tante brave persone Che vogliono essere buone persone Che si impegnano Che fanno volontariato Che aiutano Chi è più in difficoltà I poveri I cani Tutto quello che volete No? Voglio essere brave persone Ma un conto Essere brave persone Questo lo possono desiderare tutti Ma desiderare di fare la volontà di Dio È ben diverso Amen? Perché Uno può desiderare Di essere una brava persona Per motivo di coscienza Per dei principi Ma desiderare di fare la volontà di Dio Implica qualcosa di diverso Implica Che non comando più io Amen? Implica che non sono più io Che decido Ciò che è giusto E che ho sbagliato Ed implica anche Che io Mi metto Nella scuola Dell'amore E nella scuola dell'amore La misura dell'amore Non la decidi tu La misura dell'amore La decide Dio E questo è quello che fa La grande differenza Perché Una certa misura di amore La possono dare tutti Ok? Dio dice Se voi che siete Cattivi Sapete dare buoni doni A vostri figli Ok? Quindi L'uomo Anche nella sua natura di peccato Può fare cose buone Può dare buoni doni Ai propri figli Ok? Ma Noi qui stiamo parlando Di qualcosa di più Noi stiamo parlando Di vivere Secondo La sua via Secondo il suo pensiero Secondo il suo standard Ok? E questo implica Che lui ti porterà In posti dove tu Non sei capace Dove tu non sei abbastanza E questo provoca Una morte Dentro di te Quindi Il desiderio di fare La volontà di Dio Implica Abbandonare Abbandonare se stessi Abbandono Smettere di ragionare Con i propri parametri E lasciarsi guidare Mi è capitato Di incontrare persone Che dicono Sì io lo voglio Io voglio aiutare Sì però Prima Prima devo andare in vacanza O prima Sì vabbè Un po' Un po' va bene Ma non Così tanto L'uomo si stanca Di fare il bene Questo non è L'amore di Dio L'amore di Dio Non si stanca Non si stanca Di perdonare Ok? Quindi l'amore di Dio Non è limitato L'amore di Dio È un amore Incondizionato E ti vuole portare A quella livello A quella statura E cosa implica questo? Implica Uno Lasciarsi guidare Due Essere sempre disposti A farsi giudicare da Dio Chi Chi non ha Chi non ha Il desiderio Di ubbidire a Dio Non si sta sottoponendo Al giudizio di Dio Giusto? Non si sta sottoponendo Si è sottoposto Al giudizio Della sua coscienza Secondo me Quello che faccio Va bene Ma quando uno Ha il desiderio Di fare la volontà Di Dio Chiede a Dio Se va bene O non va bene Ok? E aspetta Il giudizio Di Dio Quindi si mette In discussione Fare la volontà Di Dio Significa dire Qualunque cosa Egli mi chiederà Io la farò E questo È lo spirito Del figlio Gesù ce lo fa vedere Nel Gezzemani Lo spirito santo L'opera Dello spirito santo Chi è un vero figlio? Luca 22 42 Dice Padre Se vuoi Allontana da me Questo calice Però Non la mia volontà Ma la tua Sia fatta Quello è lo spirito santo Quella è l'opera Dello spirito santo Ciò che fa Ti rende capace Di fare La volontà Del padre Contro la tua Propria volontà Ti rende capace Di sottomettere La tua volontà Amen? C'è un desiderio Più forte Dentro di te Ed è il desiderio Di piacere a Dio Amen? Le sofferenze Non importano La morte Non importa Il desiderio Che c'è dentro di me È il desiderio Di fare la volontà Di Dio A qualunque costo E questo è sopranaturale Solo lo spirito santo Può mettere in noi Quel desiderio Ardente E se vogliamo Fare la volontà Di Dio A prescindere Che ci riusciamo O meno Siamo veramente Fili di Dio E siamo vicini A Gesù Siamo come lui Siamo mossi Da suoi stessi desideri Dai suoi stessi pensieri Siamo suoi veri fratelli E sorelle Prendiamo Matteo 7,21 Questo è molto importante Questo è uno spartiacque Per noi Per capire Se siamo figli di Dio È facile sapere Se sei figlio di Dio Qual è il tuo desiderio È fare la volontà del padre O fare la tua volontà Se tu vuoi fare La volontà del padre Sei figlio di Dio Se tu vuoi fare La tua volontà Non sei figlio di Dio Molto semplice Matteo 7,21 Dice Non chiunque mi dice Signore, Signore Entrerà nel regno dei cieli Ma chi fa la volontà Del padre mio Amen Sei vero figlio Tu puoi credere Puoi dire Padre, Padre Puoi dire Signore, Signore Puoi dire Io credo Puoi fare tutto Quello che vuoi Ma se non fai la volontà Di Dio Significa che non sei figlio di Dio Amen E questo è importante Per noi È importante È importante Perché ci Tiene svegli Con i campanelli giusti Perché Nel momento in cui Noi non desideriamo Fare la volontà di Dio Ok Non che non riusciamo a farla Perché a volte succede Che noi Vogliamo farla E poi Non ci riusciamo Perché Che ne so Faccio un esempio stupido Siamo sempre stati abituati A dirle parolacce Ok Poi ci convertiamo E tentiamo Di non dirle più Ok Il nostro desiderio È di farla volontà del padre Poi a un certo punto È una settimana Che va tutto storto Ti vengono addosso Ti vengono addosso A un certo punto scoppi E mandi a quel paese qualcuno Hai peccato Hai peccato E hai sbagliato Sei caduto Ok Ma il tuo desiderio Era di non farlo Giusto? Quindi La tua forza Non è stata sufficiente Ma il tuo desiderio Non è di farlo Il tuo desiderio È di non farlo Quindi sei Nella volontà di Dio E quindi che cosa fai? Basta Che chiedi perdono E ti ravvedi E non lo vuoi più fare Ok E ti allinei Alla natura di figlio Sei un figlio Ok I vostri figli Non sbagliano mai I vostri figli sbagliano Ma di base Di base C'è un desiderio Il desiderio è di fare la volontà Dei genitori Di ubbidire Di stare bene Per lo meno Perché magari non vogliono essere così tanto obbedienti Però vogliono Vogliono essere amati E sanno Che per vivere quell'amore Non perché non c'è l'amore Ma per vivere quell'amore Quella pace in casa Bisogna ubbidire Giusto? Se no arrivano le mazzate Che sono un'altra formazione Ma di amore Matteo 12 50 Poiché E l'allarme funziona anche al contrario Se tu pensi Se tu pensi Io a Dio ci credo Però poi quando qualcuno ti dice Guarda la Bibbia dice così E tu dici Ma sì Vabbè Ma non è importante Allora non stai facendo la volontà del Padre Tu pensi di essere figlio di Dio Ma non sei figlio di Dio Matteo 12 50 Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio Che nei cieli Mi è fratello E sorella E madre Quindi Quando è che noi siamo figli Quando è che noi siamo fratelli e sorelle di Gesù Quando facciamo la volontà di Dio Quando abbiamo quel desiderio Romani 8 14 Lo abbiamo letto prima Ma lo rileggiamo Prima Lo abbiamo letto Guardando il dono dello spirito Che è lo spirito di adozione Adesso lo guardiamo Dal punto di vista del fatto che è lo spirito santo che ci guida Romani 8 14 dice Infatti tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio Sono figli di Dio E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù Per ricadere nella paura Ma avete ricevuto lo spirito di adozione Mediante il quale gridiamo Abba Padre Qui succede qualcosa di incredibile Che proprio Qui entriamo nei paradigmi del regno Allora Quando noi Noi a cosa colleghiamo il concetto di ubbidenza? Al concetto di servizio Dio collega il concetto di ubbidenza Al concetto di figliolanza Ve lo ridico Perché è una cosa molto profonda Noi colleghiamo il concetto di ubbidienza Al concetto di servizio Ok? Faccio perché mi viene comandato Giusto? Quando vado al lavoro Ubbidisco perché mi viene comandato A casa devo ubbidire perché mi viene comandato E vivo nel servizio In chiesa magari Lo faccio perché mi viene comandato Ma Dio non pensa così Dio collega l'ubbidienza Il concetto di ubbidienza Al concetto di figliolanza E noi colleghiamo il concetto di ubbidienza Al concetto di prigionia Ok? Al concetto di restrizione Dio collega il concetto di ubbidienza Al concetto di libertà Le sue vie Non sono le nostre vie Ma E questo per la nostra carne è impossibile da capire Ma lo spirito santo nostro lo capisce molto bene Amén? Allora Chi non viene a Dio Vuole mantenere la sua totale libertà di azione Non vuole ubbidire Per paura di diventare un burattino nelle mani di Dio Io parlo per esperienza Io parlo di quello che so Perché io dicevo questo Ma spiritualmente è proprio l'opposto È la tua ubbidienza che parla della tua figliolanza Grazie alla tua adozione Lo spirito santo ti conduce nella via dell'ubbidienza Quando lo spirito santo è potente in te Tu hai bisogno di darti delle regole? No C'è qualcuno che ti dice Guarda non devi dire Guarda devi pregare C'è qualcuno che te lo dice? No È il tuo desiderio Di pregare Giusto? È il tuo desiderio stare con Dio C'è bisogno che qualcuno ti dice Guarda devi perdonare No Tu sai Che vuoi perdonare Perché vuoi stare con Dio Ok? Quando tu sei nell'amore Nella dimensione dell'amore Ti pesa Ti pesa il servizio? No Neanche lo vedi come un servizio Tante volte sono Con Fabiola E lei mi dice Ah grazie che hai fatto questo Grazie che hai fatto quello Io dico ma grazie di cosa? Mi sembra Non lo vedo neanche come un servizio Siamo io e lei Siamo insieme E così è con Dio Non è una cosa che Dio ci richiede Lo vogliamo fare Lo vogliamo fare È naturale Quindi quando tu entri in quella dimensione di obbedienza naturale Sei completamente libero Amen Lo Spirito Santo ci rende uno con Cristo Con Lui riceviamo il cuore, l'amore, la mente di Cristo E camminiamo come anche Lui camminò Perché è lo Spirito Santo che ci guida Prima Giovanni 2 Dal versetto 5 dice Da questo conosciamo che siamo in Lui Chi dice di rimanere in Lui Deve camminare come anche Lui camminò Ok? Non sta parlando di legge qua Giovanni Non sta parlando Se sei un vero cristiano ti devi comportare da cristiano Non sta dicendo questo Ti sta dicendo Se sei figlio è naturale che ti comporti da figlio Se sei figlio non puoi fare il delinquente Ma proprio non perché Non perché ti devi impegnare Perché non è la tua natura Se io adesso prendo Matteo e gli dico Matteo vai a sparare Vai a ammazzare Matteo non ci andrà mai Perché non è la sua natura Giusto? Non è che si deve costringere a non sparare A non ammazzare qualcuno No È così È così e per noi Ok? Quando lo Spirito Santo è in noi Camminiamo come camminava Gesù E sappiamo che siamo figli Suoi Questo desiderio in Cristo e nello Spirito Santo Cioè il desiderio di fare la volontà di Dio Brucia Brucia E brucia come un fuoco inestinguibile Che non può essere spento o messo a tacere Nessuno ha impedito a Gesù di fare la volontà del Padre Amen? Amen Nessuno può convincere Gesù a non fare la volontà del Padre E quello stesso Spirito invincibile Uno Spirito invincibile È dentro di te Amen? Così che se tu resti nello Spirito Nessuno può convincerti a non fare la volontà di Dio Amen? E che cosa ha fatto Satana nel deserto? È andato a tentarlo per non fargli la volontà di Dio Tentandolo su cosa? Se tu sei veramente figlio Se tu sei figlio Non ubbidire Se tu sei figlio Fai come ti pare a te È questo l'inganno Pensare che ubbidire non è libertà Ma Gesù sapeva Gesù aveva lo Spirito del Figlio E risponde con la parola di Dio Che significa sostanzialmente ubbidire Ubbidire Potentissimo Amen? Quindi il diavolo cercherà di non farti fare la volontà di Dio Ma tu hai dentro di te uno Spirito invincibile Uno Spirito inarrestabile E se tu stai con Gesù Se tu dimori nel suo amore E nella sua parola Giovanni 15 In queste due cose Se tu dimori nella sua parola Se tu dimori nel suo amore Quindi nella sua presenza Nessuno può impedirti di fare la volontà del Padre Amen? Amen E perché? Perché ti viene naturale Perché è il tuo desiderio È il tuo piacere È il tuo piacere dare piacere a Dio Amen? È il tuo piacere renderlo felice Lo Spirito Santo opera in noi Il desiderio di santità Che cos'è l'obbedienza? L'obbedienza è la santità Il desiderio di ubbidire è il desiderio di santità E fratello ti voglio dire Fratello sorella ti voglio dire Controlla che sto desiderio sia ben alto E ti voglio dire una cosa Se tu vuoi fare la volontà di Dio In alcune cose In altre stai facendo come ti pare a te Attenzione 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 Controlla bene il tuo Stato di figliolanza Lo Spirito del figlio È lo Spirito di ubbidienza E lo Spirito di ubbidienza È il timore del Signore Amen? Lo Spirito Santo In Isaia 11 lo leggiamo Che cos'è? Andiamo a prendere Isaia 11, 2 Lo Spirito del Signore Riposerà su di Lui Spirito di saggezza E di intelligenza Spirito di consiglio E di forza Spirito di conoscenza E di timore Del Signore Respirerà come profumo Il timore del Signore Amen? Chi vuole respirare Il profumo Il timore del Signore Ogni volta che respiri Respiri il timore del Signore Fai respiri ubbidienti Amen? Respiri pieni di ubbidienza Questo è lo Spirito Santo in te Amen? Lui è così forte Lui è così potente Tutto quello che Gesù ha fatto È stato mosso È stato grazie allo Spirito Santo Ed è stato mosso Con il desiderio Di fare la volontà del Padre Gesù è venuto sulla terra Per fare la volontà del Padre E come ci ha insegnato a pregare Venga il tuo regno Si è fatta la tua volontà Padre nostro che sei nel cielo Amen? Quando Gesù prega Prega con quel desiderio Quando Gesù intercede per noi Lo Spirito Santo intercede per noi Loro intercedono Con questo desiderio Che colui che ha iniziato Un'opera buona E noi la porti a compimento Amen? Tutti nel cielo sono allineati Al progetto del Padre Alla volontà del Padre Con un fuoco d'amore Amen? E noi facciamo parte Di questo grande progetto Di questo grande disegno Noi siamo uniti Alla natura di Dio Noi partecipiamo di questa comunione Amen? E pensa a questo Sei molto vicino al Padre Amen? Tu sei uno con Lui Tu sei uno con Lui Amen? E questo ti aiuta A vedere i fratelli E le sorelle In un modo diverso Perché tante volte Noi Guardiamo i fratelli e le sorelle Li vediamo cadere Li vediamo cadere E ci viene da giudicare Se tu conosci il tuo fratello E la tua sorella Tu sai se loro hanno Il desiderio Di fare la volontà di Dio E se hanno il desiderio Di fare la volontà di Dio Quelli sono veri figli di Dio Quelli sono veri fratelli E vere sorelle di Gesù Quindi sono molto più simili A Gesù Di quanto tu pensi Cosa può renderci più simili A Gesù Di avere il suo stesso cuore Il suo stesso primo desiderio Il primo desiderio Nel cuore di Gesù È fare la volontà del Padre Il primo desiderio Nel tuo cuore È fare la volontà del Padre Ti rendi conto Quanto sei simile a Gesù Tu sei un solo spirito con Lui Amen? Non sei lontano da Dio E la Bibbia lo dice Questa legge Non è troppo lontana da te Ma è nel tuo cuore Amen? Dio è vicino a noi Dio è con noi Gesù è con noi Amen? Noi siamo in Lui Lui è in noi Amen? Siamo una Chiesa invincibile Amen? Amen? Alziamoci in piedi Oh Sabina